... ... ... ... ... ... ... ... ... Naturalmente sono molto commosso perché se ne è andato un compagno di tante battaglie oltre che un esponente estremamente importante della Prima Repubblica, come si sa l'ho già detto, abbiamo avuto anche momenti di dissapori ma in questo momento ricordo momenti di grande affetto e di grande collaborazione che è la dimostrazione che ai nostri tempi, anche tra i diversi si aveva una profonda umanità e si sapeva collaborare. Credo che questo sia un messaggio che dobbiamo lasciare alle nuove generazioni. Napolitano ha appoggiato la svolta, ha avuto un momento di incertezza iniziale ma poi insieme a Macalusa hanno deciso di appoggiarla fino in fondo. Lui tra l'altro mi ha aiutato nel primo viaggio di un segretario del PC in America, ha avuto una grande funzione, mi ha aiutato nella mia ripresa di contatti con i grandi leader europei a partire da Vigli Brand e quindi abbiamo collaborato sulla linea che a lui era carissima dell'europeismo e della unificazione di tutta la sinistra. Grazie.